Volti distesi alla ripresa degli allenamenti in casa Scalea, il passaggio del turno in Coppa Italia è arrivato domenica con la seconda vittoria in rimonta, ha ripagato il duro lavoro estivo e Carnevale e i suoi ora possono concentrarsi sulla prima di campionato che prevede un classico, Scalea Paolana. Contenti per aver superato questo turno di Coppa era il minimo, dovevamo farlo, era proprio dovuto perché una squadra che si presenta con l'ambizione di provare a vincere il campionato è inevitabile che con tutto il lavoro, il carico pesante, il periodo estivo però è normale dover superare il turno. Siamo andati sempre sotto in queste gare, siamo riusciti a ribaltarle, quindi vuol dire che c'è già una dimostrazione di gruppo coeso che ha voglia di fare bene, che riesce a ribaltare le gare. Adesso è finito il calcio d'agosto, è finita la Coppa Italia, si inizia subito con tre punti in baglio, ripartiamo dove abbiamo finito lo scorso anno nella regular season, l'ultima giornata è stata Scalea Paolana, ricominciamo proprio da lì, una gara che non siamo riusciti a sbloccare, che finì 0 a 0, cercheremo di fare invece ricominciare quest'anno con un piglio diverso, provando subito a regalarci una prima gioia, a cercare di far capire che ci siamo e giocheremo ogni gara con l'obiettivo di provare a vincere. Poi è normale, parla sempre il rettangolo di gioco, ma la determinazione c'è tutta quest'anno per cercare di fare bene, sia sul versante Coppa Italia che sia in campionato. Per il tecnico biancostellato l'obiettivo è chiaro ed è bene rimarcarlo in ogni occasione, il salto di categoria tanto più che quest'anno in ogni reparto c'è l'imbarazzo della scelta. Lo scorso anno tanti riuscivano a nascondersi in mezzo al campo perché non c'era l'effettivo sostituto, ora c'è l'imbarazzo della scelta, sarà difficile di domenica in domenica lasciare qualcuno fuori, ma questo ci dà ampie garanzie per il proseguo. Se vogliamo lottare sui doppi fronti, Coppa Italia e campionato, dobbiamo avere più uomini disponibili e coloro che saranno meglio scendere in campo alla domenica. È un grosso vantaggio per noi questo, è la prima volta che lo abbiamo qui a Scalea, dobbiamo provare tutti dal primo giorno fino all'ultimo giorno a raggiungere l'obiettivo. Non ci nascondiamo, è quello di provare a accedere al campionato di Serie D.